Musica Le emozioni che lo sport può regalare a una persona sono le stesse, al di là che sia sport paralimpico o non, o sia sport a livello professionistico o meno. Lo sport è per tutti e regala le stesse emozioni quando vinci nel giardino, nel cortile sotto casa e quando vinci le Olimpiadi. L'anno prossimo ci sono gli europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi, quindi l'obiettivo sarà quello di vincere più medaglie possibile e di arrivare in finale nei 200 metri a Parigi. La giornata attuale è il messaggio, Andrea? Il messaggio è appunto trasmettere la passione per lo sport a tutti i ragazzi che qua si sono presentati numerosi. Per me è bellissimo vedere questa affluenza. Si parla di sport paralimpico, quindi di abbattimento di barriere. Qua insieme a Filippo abbiamo un po' unito due mondi che sembrano divisi, ma in realtà sono molto vicini e quindi è questo quello che vogliamo far capire. L'atletica non ha barriere, soprattutto in pista. Per. 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 bellissimo 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 una sensibilità giusta, straordinaria di riconoscere tutti i fattori per ruolo che non è un ruolo semplice l'abbiamo parlato di che il rischio di cadere della compassione e dell'errore emozionale ci stava io l'ho visto da più e ti devo dire che questo era molto buono questa è proposta di dirvi, è un voglioso di essere parale di riconoscere e parale di riconoscere grazie 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 Riccardo è un allenatore che è appassionato di sport e soprattutto di atletica, lui predilige molto un allenamento unito allo spirito, cioè nel senso che comunque la parte fisica lui è molto preparato come allenatore, però predilige molto della socialità, il fatto di creare degli atleti che siano felici di fare sport, riconservino quel concetto principale, fondamentale dello sport, cioè di careggiare con un'estate, con il suo peso sulle labbra, con la gioia di fare sport e si ritrova a un certo punto allenando una squadra di bambini, perché lui dopo un periodo abbastanza duro nella sua vita si ritrova ad allenare dei bambini e ritrova dei bambini a questo punto quella voglia, la gioia di fare sport, quel sorriso. un po' come non so se avete visto la nazionale che ha parlato volontivamente, che c'era un rituale molto bello, cioè ballavano e cantavano in modo tale da rendere la competizione il meno importante, il meno stressante possibile, cioè togliersi quel peso di tutte le responsabilità che può avere in quella maglia, chi indossa la maglia dell'Italia o chi ha una… In realtà anche gli incontri, c'è una rinascita, c'è una rinascita continua nella nostra vita quindi non nessuno… Sì, sì, tante cose, tra cui anche la rinascita sì, grazie allo sport, ciao, arrivederci, ciao… Sono stati quattro giorni straordinari che mi confermano che la strada che abbiamo intrapreso nel lontano 2018, anche in quell'anno nobilitato dalla presenza del Presidente della Repubblica era la strada corretta. Il nostro obiettivo con queste giornate è quello di contaminare, tentare di contaminare la società civile fornendo una percezione della disabilità diversa, coinvolgendo naturalmente, partendo dai nostri atleti, ciascuno dei quali non è soltanto un campione, non è soltanto un grande atleta che ha vinto medaglie, ma è fonte di ispirazione, può essere fonte di ispirazione per tanti ragazzi disabili, perché si porta dietro, come ciascuno di noi, è una storia che spesso è una storia molto attrattiva, ma nello stesso tempo speriamo pure di aver in qualche modo aiutato a contaminare la città di Taranto, nel senso che Taranto che fa della voglia di riscatta e rinascita un po' il proprio motivo di impegno quotidiano possa comprendere che è quella stessa voglia di riscatta e rinascita che può essere coltivata grazie all'attività sportiva. Ma guardate, io sono troppo vecchio del mondo, perché è un mondo che conosco da più di 43 anni, gli ultimi più di 20 come presidente, tutti sono emozionanti, devo dire che poi alla fine quello che è più toccante non è tanto quello che avviene sul palco, perché per noi naturalmente è noto, ma quello che vedo nei visi di tanti giovani. Perché poi l'obiettivo è quello, insomma, contaminare i ragazzi della scuola che saranno i cittadini di domani, la classe dirigente, affinché sia attraverso di loro, educandoli con queste giornate, a comprendere la ricchezza che si può trovare e si deve trovare nella diversità, perché soltanto in questo modo possiamo immaginare di costruire un paese migliore.